Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle Io sono Fiona, io sono Erika, sono Carlotta, brava Carlotta Siamo qui in compagnia di Mario Kartotto Kartotto? Kartotto Era indispensabile Ovviamente Kartotto Deluxe sulla nostra Nintendo Switch con questi grandissimi Control Non lo vedo Sì abbiamo avuto un po' di difficoltà, ci siamo allenate prima Funzionerà così Io e Erika ci sfidiamo Chi vince? Sbattere Sbattere Carlotta Oh mio Dio Ve lo spiego io Chi vince sfida Carlotta Perché Carlotta è responsabile della recensione Ciaoone Che trovate sul nostro bellissimo sito www.gamesprincess.it Quindi adesso iniziamo appena Fiona si riprende un attimo Cosa scegliamo qua? Aspetta che intanto mi si è bloccate tutte cose Dai Premi Gran premio 200 perché Allora cosa scegliamo? Boo! Boo no bellissimo Boo Con la coroncina in testa Boo Boo bellissimo Io Luigi perché Luigi quando mi hanno raccontato che quando ti passa vicino e di supera ti guarda male Si ti guarda proprio, no non ti fa il signo dell'ombrella ma ti guarda male Mi piace lui perché lui fa brutto Fa brutto va bene Fa brutto come tu Come tu Fa brutto come tu Potete sapere che Erika ha uno t-shirt Bellissima Che mi hanno regalato degli amici con scritto io faccio brutto Tanto per far capire Che tagli Questo Sono degli amici simbatici Ah si Come Fiona insomma Allora no Quello dell'aereo non lo voglio Quindi che cosa scegliamo? Vuoi il fungo, il fiore, la stella, la coro Il fungo Il fungo Ok Ok Sono pronta Io vingo tutte cose Ecco se magari l'operatore non si mette davanti alla tv Alla tv mentre stiamo giocando Quindi Pronti? Sono pronta Mem 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 Cos'è Mem? Non è la partenza Sono gli americani che fanno Hello Mem 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 Non lo sapevi? Mem Se Madam in americano si dice Mem Mem Non lo sapevi no Vina Viimbaro le cose nuove Chi è il che mi lancia contro degli oggetti con tutti di denti Allora Denti Denti E contun E contun Come lo fai? E contun è difficile E qui che ti voglio eh? Parapara Papapapara Mi sento già che sarà il tuo Dobbiamo sfidare Camata Ok, faccio giusto Vabbè ma poi facciamo Tattattattara Ok, così Gioca con noi Fionna Ciacalli Non si direbbe che abbiamo quasi trent'anni eh? Hai le quasi usali però Li sto usando Guarda che brucio tutto Guarda che brucio l'asfalto Parichanente sei invisibile Ma dura un secondo e mezzo E che mi ti passano a colpire Ma dura un secondo e mezzo No, chi ha lanciato quello? Ancora la speretta Adesso no, potrebbero essere in quanto speretta Vai 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 Dove? Dove? Ma me l'hai lanciato tu il polpo? Ma io non ho lanciato niente che non so neanche dove sto di casa Brutte persone Lancialo, lancialo, lancialo Dai Ma tu hai già finito Se vinci la prossima Ciao ora Se perdi la prossima Ciao ora Dai ciao Beh sono quattro comunque le piste Fateci sapere, voi avete già giocato a Mario Kart Se sì, qual è il vostro personaggio preferito Con quale mezzo Il circuito preferito Il circuito preferito Eeeh Non mi veniva Fietato dalla legge Guarda che ti sono arrivate delle altre notifiche sul telefono Guarda da niente Noo Cerca di distrarmi Sott'acqua, sott'acqua No c'ho un muro Ben 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 Dai Io sono prima ma durerà un secondo e mezzo eh Abba mia Donna di speranze proprio Perché io sono settima adesso? Cioè giuro non sto facendo apposta per farti vincere perché non potrebbe mai succedere Già sono terza, vieni C'ho un mu Cioè io sono pu e posso lanciare un mu Dovete smetterla di lanciarmi le cose ma che cosa ho fatto di male? Vai 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 No vai che sono undicesima No dove sono? Dove sto andando perché? Eh non lo so Chi sono? Dove sto andando? Nella vita o in questo momento? Dai 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 Allora Sto morendo Tengo la storia Pappa 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 Dai 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 ho vingiuto Pronto Sto vincendo Non esattamente Sto vintuto ho vinto tutto Vaffambagno Ho vinto tutto Noo Vabbè meglio da Fiona Ha vinto Tieni Adesso io tifo contro me Ma come ti stavo dicendo Adesso devi tifare per me Cioè Carlotta può vincere contro di me Occhi chiusi Anzi se vuoi facciamo una prova Occhi chiusi Oggi è successa una cosa C'era Erika che era seduta Io mi stavo spestando Per cercare di andare a fare l'insalata Per riuscirci E non so che cosa è successo Mi sono alzata sui piedi dei piedi Ho preso il naso contro la cappa La cappa si è truccata La cappa si è truccata E io avevo una specie Mi fa malissimo il naso E nessuna di loro mi ha detto Poi una mano ha riso No perché te ti sei messo a ridere No no ma ridete di me Mai dire mai nella vita Ma chi vuoi che vinca dai Mi prendi anche in giro Dai Erika sei bravissima Sei tutti noi Ma noi ch'io Noi tutti Gli ombrelli La sedia Il faretto che mi sta accecando da due ore Sei tutti noi Vai vai Il tipo per me è più becco degli oggetti E perdo Però se sei sfigata non è colpa mia Scusa E sa che non fai il tipo nel modo giusto Tu non fai il tipo E non lo so prendi dei pompon Dai di là Dai com'i una cazza Vedere la Cirly del Campo In ordine giusto A carica Brava Erika Che sono decima hai ragione Ci vuole di bella vita Dai Luigi sei il maestro del fare brutto E continui a prenderlo dagli altri Dai A prenderla cosa? A prenderla Cosa specifico? Cosa nello specifico? Cosa nello specifico? La bacheria La bacheria Ciao Mi voglio andare qua Tennerisce ad alzarti Sei già a casa tua Esatto Quindi per farvi Perché so che vi stavate strappando Allora la cuore La cosa che non vi aspettavate assolutamente È che io ho perso Però per rallegrarvi la giornata Ne rifacciamo un'altra Perché tanto Erika Perderà sicuramente Esattamente questo Va via Hai una nuova chance Grazie alla macchia Brava Di fare nuove Bellissime figure Cos'è quella cune? V Ma tu te le ricordi Le piste così non vale Le ho provate a prima Ma non è vero Io non me le ricordo Eh certo Datemi una E Datemi una K No Echira no Ma io te Forza Erika Forza Erika Che sei terza Ah no Quella è Carlotta Scusami Quindi chi sta vincendo? Io Datta a lei Ah Però Carlotta Non è che devi fare Cioè la devi fare apposta Per vincere Non so Però ogni tanto Eh Sono la più brava di tutti Vabbè dai Forza Direi che questo video pieno di disgrazia termina qui Mi raccomando Lasciate tanti like Condividete il video Scrivetevi al canale Lasciate anche tantissimi commenti Diteci Niente Ditemi quanto sono state bravi appunto Sì A seconda tentativa Adesso Quello che è stato registrato conta Secondo tentativo Il prossimo video di Mario Kart Sarà bellissimo Quindi Aspettatevelo Cosa vuol dire? Aspettatevelo Vabbè ciao Rimanete sintonizzati sul canale Aspettatevelo Ciao 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 Ciao